Cultura e turismo è così in tutto il Molise, eccetto Frosolone, dove il sindaco Felice Ianiro ha invertito i termini dello slogan ideato da Vincenzo Cotugno rovesciandolo. A Frosolone viene prima la cultura e poi il turismo. Il risultato non dovrebbe cambiare, l'importante è attrarre visitatori. Ianiro intanto ha varato una commissione mista per studiare tutte le forme più opportune per aumentare la visibilità e l'attrazione di Frosolone. Allora stiamo parlando della commissione cultura, io aggiungerei è turismo, invertendo lo slogan che la regione da qualche anno ha coniato, perché siamo convinti che la cultura debba essere necessariamente posta come antefatto rispetto allo sviluppo turistico. Quindi partendo dalla cultura per fare un discorso promozionale di sviluppo e di conoscenza del nostro territorio, delle nostre peculiarità, delle nostre risorse e quindi cultura come sviluppo turistico e come sviluppo socio-economico di una intera collettività. A chi è rivolto? È rivolto a tutte le persone che all'associazionismo, alle persone che già si sono spese e si vorranno spendere per portare avanti questo tipo di discorso. Quindi essenzialmente a tutte le persone di buona volontà che hanno nel cuore e nell'animo quello di promuovere il proprio territorio, la propria comunità. A capo della commissione uno studioso, il professor Donato De Renzis, che spiega così quali saranno i fini dell'organismo istituito da Felice Ianiro. Quello che questo gruppo di promozione e formazione culturale che parte adesso vuole arricchire questo patrimonio di esperienze già consolidate portando, immettendo nel tessuto civile di Frosolone elementi di cultura generale e di pensiero generale. E questo nel fine di tutto questo lavoro che vorremmo avviare è quello di ricostruire una comunità perché una comunità esiste se esistono delle visioni del mondo, se esistono dei principi e dei valori condivisi che oggi io ritengo, è una mia opinione, sono pesantemente compromessi da una informazione e da una comunicazione pubblicitaria devastante che comprime le intelligenze e è attenta alla ragione. Io vedo questo.